Un hub per la scienza, un centro di alta formazione, un incubatore di impresa per la medicina del futuro. Questo è il Salento Biomedical District, destinato a cambiare il volto della ricerca applicato al sempre più vasto settore della salute. Un'iniziativa che vede in partnership Unisalento, Medtronic Italia e CNR Nanotech, l'Istituto Italiano di Tecnologia. Un'intesa 4 che punta a creare una piattaforma attraverso cui veicolare, sviluppare e implementare la cultura biotecnologica, mettendo insieme le esperienze accademiche e industriali per la creazione di valore nel settore della salute. Noi vogliamo creare un comparto dell'industria Medtech nel Salento ed in Puglia. Vogliamo aiutare i giovani talenti ad esprimersi, a costruire delle iniziative imprenditoriali in ambito Medtech e vogliamo anche attrarre delle aziende già attive in ambito delle tecnologie mediche. Il Salento Biomedical District ha quindi una doppia valenza. Costruire da un lato impatto sociale che è impatto sociale medico perché aiutiamo la salute delle persone e dall'altro impatto economico perché possiamo riuscire a costruire un ecosistema imprenditoriale. Il tema oggi è quello della medicina personalizzata, produrre cioè tecnologia che da un lato aiuti a diagnosticare in modo molto più precoce eventuali patologie e dall'altro riuscire a produrre delle terapie molto più efficaci. La tecnologia assieme ovviamente alla conoscenza, alla capacità di analizzare i dati che provengono grazie a sensori innovativi all'interno del nostro corpo ci permetterà di risolvere l'annoso problema del riuscire a guarire in tempi rapidi. Contestualmente si potrà sfruttare questi risultati per produrre innovazione, per aiutare a trasferire questa conoscenza sul mercato, aiutare i giovani talenti, accelerare le nuove idee e questo è l'obiettivo principale del Salento Biomedical District. Ecco, il rispetto biomedicale si lega molto, anzi esattamente a quello che diceva prima lei, professor Sannino. Guardi, proprio così, dall'interazione delle quattro gambe di cui parlavo, ricerca, didattica, impresa, finanza di rischio, la scommessa che vogliamo fare è creare un acceleratore di impresa tecnologica, che chiaramente parte da un settore in cui c'è massa critica. L'Università del Salento ha fatto recentemente un investimento importante sul nuovo corso del MedTech. Cos'è il MedTech? È quell'interdisciplinarietà di cui si parlava prima, tra culture diverse. Ma non si rischia così di trasformarlo, l'Ateneo del Salento, in Politecnico? Ma, guardi, questo è un discorso che noi abbiamo in Puglia un ottimo Politecnico. Al momento vogliamo crescere verticalmente e fare massa critica attorno a competenze che sono veramente uniche sul territorio nazionale e in alcuni casi internazionale. Queste competenze genereranno sicuramente ricchezza in termini di risorse per il territorio. Non c'è dubbio, ma non c'è il rischio di sovrapposizione, anzi. Non solo non c'è il rischio di sovrapposizione, ma il MedTech, come è stato detto anche al momento della fondazione, anche dal Presidente Emiliano, non è un'iniziativa salentina. Il MedTech è un tassello che si aggiunge all'offerta pugliese, è il primo MedTech pubblico d'Europa che è stato fatto in Puglia. Ed è un corso che ha la parte di medicina e la parte di tecnologie. Quindi è una L41, una laurea di medicina e chirurgia tradizionale, con 30 credit in più, i ragazzi hanno anche competenze di ingegneria biomedica. La laurea di primo livello di ingegneria biomedica perché il chirurgo del futuro non entrerà in sala operatoria, ci entrerà in un robot. Il bravo clinico non dovrà interrogare solo la propria memoria, ma dovrà interrogare banche e dati. E quindi è giusto dotare di competenze aggiuntive questa classe di professionisti. Ma cosa genera questo nel Salento Biomedical District? L'opportunità di coniugare competenze anche molto distanti per fare nuove imprese e trovare soluzioni tecnologiche che migliorano la qualità della vita delle persone. Perché al centro dell'obiettivo di crescita culturale e sociale di un territorio c'è sempre la persona. E Unisalento ha messo al centro del proprio programma di crescita l'individuo. Quindi noi vogliamo aiutare chi soffre e aiutare a formarsi gli imprenditori, i medici, gli ingegneri, le persone competenti. Che aiutino a star bene. Esattamente. Rettore, ma come si riesce a tenere insieme, a tenere l'erede di tutta questa modernità? Un'università che è nata su basi umanistiche, adesso diventa di queste dimensioni tecnologiche, futuristiche, sarei dire. Ecco, come si riesce a mantenerla in piedi? Una bella domanda. A cui posso rispondere dicendo che si devono seguire due strategie. Una è la più importante. E parlo ai telespettatori perché possano comprendere quanto questa è strategica, perché loro ne hanno esperienza da secondo di loro. Noi possiamo raggiungere qualsiasi obiettivo ci vogliamo porre, ma dobbiamo avere dentro di noi la forza, cioè la motivazione. Allora io in realtà, più che un rettore, sono una specie di coach. Il mio ruolo era, ed è quello di sollecitare, innanzitutto i miei colleghi e le mie colleghe, a mettere il massimo impegno in un obiettivo. Poter contribuire tutti come Ateneo al miglioramento delle condizioni di benessere attuali e prospettiche della nostra comunità, del nostro territorio, del nostro paese. E dunque la prima cosa è motivare e orientare gli investimenti nella ricerca, gli investimenti nella formazione. Questo è il primo aspetto fondamentale. E poi il secondo aspetto è coordinare queste diverse anime. Ma è possibile. Faccio due esempi. Già giustamente il professore San Nino, fondamentali le quattro anime, formazione e ricerca. Ora vi dico questo. Noi prima di creare il MedTech abbiamo creato ingegneria biomedica. Oggi siamo in grado di dire a un'azienda, sul settore biomedico, noi abbiamo informazioni per ogni anno centinaia. Penso il corso di ingegneria biomedica che cresce in termini numerici in maniera superiore a altri corsi in Italia. Ebbene, quell'ingegneria biomedica assicura delle intelligenze alle aziende che vogliono irsi a localizzare al nostro territorio. Che cosa vuol dire questo? Che noi, da una parte, formiamo le competenze atti a supportare lo sviluppo competitivo delle imprese. Ma dall'altra parte, attraverso i nostri laboratori, forniamo anche le conoscenze che possano contribuire a innescare un processo di relazioni virtuose tra ricerca pubblica e ricerca privata. Lei pensa che questa cosa può essere soltanto in ambito, non so, biomedico, laddove ci stiamo specializzando. Perché il nostro obiettivo è investire sul One Health, salute del genere umano e salute dell'ambiente. E questo è il nostro obiettivo. E noi stiamo creando un grande incubatore, acceleratore di imprese proprio nell'area del One Health. Per diventare un punto di riferimento non in Puglia, in Italia, ma nel Mediterraneo. Ma, le faccio un esempio virtuoso. La collega, valorizzazione, lei è una storica dell'arte, valorizzazione del patrimonio culturale. Area umanistica. Eppure vado a vedere quello che facciamo. Noi abbiamo missioni archeologiche in tre continenti. Dal punto di vista dei beni culturali siamo da sempre un Ateneo caratterizzato da un livello di eccellenza incredibile. Una scuola di specializzazione in archeologia che è un vanto per la Regione Puglia e per il Paese. Ebbene, le dico questo. Noi siamo bravi. L'altro giorno ero alle 40 anni del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali a Ravello. E si parlava di Università del Salento come un'eccellenza. Perché si parlava che in giro del mondo, quando si fa la datazione a radiocarbonio, chi la fa? L'Università del Salento. Chi studia tecniche e materiali per proteggere i beni culturali? L'Università del Salento. Attraverso il Dipartimento di Ingegneria. Chi parla di realtà aumentata per la fruizione dei beni culturali? L'Università del Salento, attraverso il Centro di realtà aumentata. Allora lei comprende bene che qui noi stiamo mettendo insieme anime completamente diverse. Noi, area ingegneristica. Noi, quella dei beni culturali, area umanistica per creare eccellenza. E' questo quello che deve fare un Universitas. Infatti l'errore è pensare, l'errore è folly, ho sentito qualcuno che afferma questa follia. Cioè no, ma ci deve essere una specializzazione degli Atenei. E' una follia. Perché la ricchezza nasce dall'interazione tra i saperi. E l'Universitas deve essere essenzialmente questo. Ecco perché le dico, questo è l'elemento. Beni culturali, stiamo creando un centro per il restauro. Unico, in cui metteremo insieme laboratori di istituzioni diverse per il restauro. Qual è l'obiettivo? Non limitarci al restauro, ma fare ricerca sul restauro. Per diventare un'eccellenza. Ecco, questo secondo me è la chiave del successo. Ecco, lei prima ha parlato di Coac, si è definito Coac. Da questo mi richiamo un po' alla mente. Un esempio anche calcistico. Posso dire che lei non ha sotto mano la nazionale di Pelè, ma la nazionale di Cruyff. Cioè ha la squadra, non il fuoriclasse. Beh, questa cosa me la gioco in la fricata. La possiamo mettere su questo? No, sai, lei mi sa, posso farlo? Mi fa venire in mente una cosa che io ripeto spesso nell'incontro di orientamento. Perché, diciamo, io sono molto orgoglioso del fatto che come rettore, penso di essere l'unico rettore in Italia, devo dire, che va in tutte le scuole. Io sono stato in 30 scuole, delle tre province, Taranto, Brindisi e Lecce. Non mi sono spinto altrove, perché mi rendo conto che c'è un rapporto di amicizia e di stima di Cipro con gli altri rettori, per cui mi sono fermato alle tre province. Ma vorrei andare in altre regioni d'Italia e all'estero, e adesso andrò a fare orientamento in Romania, cioè per dirle, ma quando entro nelle scuole, io dico una cosa fondamentale. Uno, noi lavoriamo per far crescere la fiducia di loro stessi, dei ragazzi, delle ragazze che si iscrivono alla nostra università, perché questo è importante. Ma la cosa che dico sempre è quello che io penso dell'università. Anche qui è una metafora calcistica. Quando sono stato, sono diventato, prima di diventare lettore dell'università del Salento, mi hanno regalato una maglietta. 12 Salento. Per la verità io non ho capito subito cosa significasse 12 Salento, poi ho capito invece che 12 è, perché il pubblico è il dodicesimo uomo in campo. Allora lì ho pensato una cosa che ancora oggi mi emoziona, è che l'università del Salento è il dodicesimo uomo in campo, perché accanto ai ragazzi e alle ragazze, perché possano raggiungere i loro sogni, le loro aspirazioni, e accanto alle imprese, perché ne sostiene la competitività, e accanto alle istituzioni locali, come il Master Plan della Terra d'Otanto, perché noi vogliamo promuovere lo sviluppo delle istituzioni, perché solo in un territorio in cui le istituzioni locali sono forti, si può generare un processo di sviluppo endogeno e autocentrale. Ecco perché, le dico, mi piace molto questa metafora dell'idea dell'università come dodicesimo uomo in campo. Bene, la pubblicità.